Ciao sono William Misaki di blog Misaki.it e in questo breve video ti voglio spiegare perché il sistema Misaki Il sistema Misaki è perché vogliamo trovare delle soluzioni, vogliamo risolvere i tuoi problemi non ci interessa solamente vendere delle finestre come fanno i venditori di infissi ma appunto trovare delle soluzioni noi non seguiamo quello che fa il mercato con il sistema Misaki ma facciamo quello che abbiamo provato che abbiamo testato e che funziona e che è in linea con quello che viene fuori durante la consulenza che ti facciamo quando scegliamo le finestre e le soluzioni che più si addicono alla tua casa, al tuo stile di vita infatti il sistema Misaki vuol dire anche rendere la tua casa più confortevole attraverso gli infissi e vuol dire anche rendere il mondo un posto migliore sembra qualcosa di grosso detto nel mondo degli infissi ma in realtà ci sono tante cose che facciamo in questa direzione e tante cose che non facciamo come ad esempio non proponiamo infissi PVC proprio per rendere il mondo migliore o non proponiamo delle soluzioni dove l'isolamento non è equilibrato come fanno molti venditori che al limite ti vendono una finestra e non ti cambiano il cassonetto lì si crea una voragine energetica e un ponte termico che se hai seguito gli altri articoli e gli altri video sai già che cosa vuole dire quindi se vuoi una casa più confortevole con il sistema Misaki vai su www.bisaki.it e se ti è piaciuto il video metti mi piace e segui il canale ciao al prossimo video ciao al prossimo video